ore 13 e 45 ora che ho dato per mettere la chiama e sono col tavolo e stanno ad aspettare secondo gioco di segno all'euro all'euro diametralmente la parte opposta il secondo testo è male i problemi sono altri i problemi sono tutti altri temperatura indicata a 37 gradi ritengo che percepita tra asfalto motori bidoni 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 tanti e cipietti sacripanti non lo so percepita la cifra liquidatura percepita la cifra e allora in tutto il ragionamento pensiamo anche a chi è almeno un po' di noi il tetto la macchina ufficio cambiate aria condizionata non gelato non gelato mai è inverno l'estate piove l'epica c'è inverno c'è il sole cambiate sempre senza detto solo e allora venerdì questo che viene è 26 mi sembra sempre al bar mori dalle 17 e 30 alle 19 e 30 mi sembra decima edizione di portacela bene no acqua no alcoli a Roma l'alcoli si trova facile mi sembra qualcosa però un po' di energizzante un po' di zuccherante fortificante corroborante e allora zucchi di frutta zucchi di pappello non è freddo non è freddo non è freddo la canta di notte vecchi premi e cotion almeno sei messi a pensione da che interviene non ha soldi e come sempre dal vivo live maschina trasparenza comunitari da Sant'Egirio per ritirare il raccordo e andare di situazione improvare il fantastico piacere di fare una fase per bambini ti aspetto il venerdì il 26 luglio 2019 a 1.000 coli dal 17 e 30 alle 19 e 30 che portacela bene che fa un caldo fuori secondo te sta male viva la vita molta la vita bella per te percepita una cifra KAUS